Nel quartiere di San Lorenzo a Roma c'è una casa che il sabato mattina accoglie bambini e bambine, egiziani, marocchini, etiopi, indiani, di ogni paese e religione possibile. Si chiama Casa di Iqbal, uno spazio ricavato all'interno della parrocchia dell'Immacolata, usato per giocare, studiare e fare amicizia. Spesso sono ragazzi nati in Italia dai migranti con situazioni familiari e lavorative precarie e molto difficili, anche con sgomberi alle spalle. Nella Casa di Iqbal però i problemi e le tensioni non ci sono più, grazie anche e soprattutto al lavoro dei numerosi volontari che si occupano delle attività. Anna Maria Tamburro è presidente della Casa di Pulcinella, di cui fa parte il progetto di San Lorenzo, che partecipa con i suoi volontari e i suoi ragazzi e Good Deeds Day, la giornata delle buone azioni, iniziativa internazionale gestita in Italia in coordinamento con CESOS PES, centri di servizio per il volontariato nel Lazio. Ci sono bambini innanzitutto di diversa provenienza geografica, religiosa etnica e di diversità. Abbiamo bambini che più o meno hanno intorno ai tre anni e arrivano anche ai 18 anni e anche più, ci sono anche quindi non bambini ormai ma persone adulte che comunque magari per problemi linguistici hanno bisogno di supporto scolastico e quindi insomma noi cerchiamo di venire incontro anche a queste esigenze. Il gruppo parrocchiale nato nel 2011 si ispira alla storia di un bambino pakistano, operaio e attivista contro il lavoro minorile, morto, ucciso per le sue battaglie. Cecilia Nicoletti, coordinatrice tra le fondatrici del progetto, nato dall'incontro con dei bambini che vivevano in alcune case occupate del quartiere e marginati. Quando li abbiamo incontrati abbiamo capito che avevamo un bisogno comune, loro il bisogno di tirarsi fuori da questo ghetto e di incontrare altre persone, di fare amicizia con le altre persone del quartiere e noi avevamo il bisogno di superare tante paure, tanti muri, quei muri che si si vedono in tutta Europa, in tutto il mondo a volte nei nostri giorni. La casa di Iqbal è aperta anche il martedì pomeriggio per i laboratori di inglese. A frequentare la parrocchia sono cattolici, musulmani, copti, ragazze con il velo come Maria di origine libiche che viene qui a studiare matematica. Vengo da un anno qua, è un spazio che possiamo studiare, possiamo conoscere nuovi amici. Io dico spesso ai miei amici che se vogliono venire qua.